E' stato presentato stamane a Palazzo della Cultura il progetto Azione di Sistema per lo Sviluppo della Cultura del Bene e della Legalità, che attraverso un'azione di sistema integrata intende promuovere il senso civico tra i giovani tramite lo sviluppo di atteggiamenti volti al rispetto della cultura, del bene e della legalità per l'appunto, favorendo un maggiore protagonismo sociale e aumentando le opportunità di crescita individuale e di gruppo. Il progetto è stato promosso dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato da Pistis II e IRFOR, con il supporto del Comune, del Centro Orientamento e Formazione dell'Università di Catania e del Centro di Ricerca Attid dell'Università La Sapienza di Roma. Destinatari sono giovani fino a 35 anni, italiani e immigrati o appartenenti alle seconde generazioni di immigrati e in generale tutta la popolazione dei territori in cui ricadono le azioni progettuali, che verrà coinvolta tramite le attività di sensibilizzazione e diffusione. Con le attività formative si intende consentire ai giovani provenienti da altri paesi, ma anche a quelli italiani, di avere adeguate informazioni per avvicinarsi al vivere comune della società in cui si trovano e che contribuiscono a sviluppare. Questo discorso parte già da noi, dalla cooperativa, da quando è stata costituita, abbiamo sempre cercato di promuovere questo tema e lo strumento che verrà fuori come proprio strumento fondamentale perché si sviluppi questo processo è la drammatizzazione. Questi giovani saranno protagonisti, attori protagonisti della drammatizzazione e speriamo poi attraverso questo sia loro che quelli che saranno sensibilizzati e anche i giovani protagonisti nella realtà. All'inaugurazione del progetto anche il sindaco Raffaele Stancanelli. Io ritengo che ogni azione che faccia vedere concretamente come le istituzioni sono a contatto con la realtà per contrastare tutte le legalità sia un fatto assolutamente positivo. Io ritengo che Catania, ma non soltanto Catania e le grandi città del meridione, abbiano bisogno di questi spunti, di questi esempi, di queste azioni per, come posso dire, per mediare sempre più nell'opinione pubblica il concetto che la legalità è l'unico strumento per poter far progredire una società e una comunità.